Buonasera, ben ritrovati con l'informazione del quotidiano, l'attacco. Le carte sulla realizzazione di cinque nuovi ospedali in Puglia saranno trasmesse alla Procura della Corte dei Conti e all'anticorruzione. Lo ha annunciato il commissario regionale e consigliere regionale di azione Fabiano Amati nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina, nel corso della quale sono state illustrate le ragioni per cui tardano i lavori in questi ospedali. Sentiamo. Le carte sulla realizzazione di cinque nuovi ospedali in Puglia saranno trasmesse alla Procura della Corte dei Conti e all'ANAC. Lo ha annunciato il commissario regionale e consigliere di azione Fabiano Amati durante una conferenza stampa convocata assieme al suo collega di partito Ruggero Mennea e a Massimo Stellato, consigliere regionale aderente a Italia Viva. Secondo Amati tutti gli ospedali in costruzione nella Puglia lamentano gravi ritardi. Il riferimento è alle strutture in corso di realizzazione tra Monopoli e Fasano ad Andria nel Nord Barese, a Taranto e a Melpignano nelle Cese. Amati, presidente della Commissione Bilancio, denuncia l'impasse nella loro costruzione. Tutti i cantieri infatti sono in ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale. Il gruppo regionale di azione ha deciso di segnalare la situazione all'autorità anticorruzione che ha una competenza amministrativa sul monitoraggio di questi appalti. Dei cinque ospedali solo due sono in costruzione, quello di Monopoli-Fasano e quello di Taranto. Abbiamo deciso di dire basta chiedendo ai mezzi di informazione di verificare se stiamo dicendo la verità o se stiamo dicendo delle sciocchezze e se stiamo dicendo la verità di amplificare questo grande messaggio perché la Puglia a quest'ora doveva tenere già cinque nuovi ospedali e non li tiene, questo diciamo è importante, sin dai tempi di vendola, questa è una programmazione ai tempi di vendola, io e l'assessore con delega all'edilizia ospedaliera, sin dai tempi di vendola oggi avremmo dovuto averli, non ce li abbiamo e ne abbiamo soltanto due in costruzione con mille problemi e alcune magagne e ne abbiamo tre che non partono. E questi ospedali a che servono? A evitare che le persone muoiano. Ora se una regione non dà potenza a questo programma per evitare che le persone muoiano ditemi voi di che cosa si deve occupare un ente come la regione. Qual è l'atto di governo migliore o superiore a questo che può fare un ente come la regione? Ancora un nulla di fatto, siamo sempre alla regione Puglia nella seduta odierna del Consiglio rinviata a causa della mancanza del numero legale, la replica, la dura replica delle opposizioni di centrodestra contro la maggioranza del governatore Michele Emiliano, una maggioranza che non ci sarebbe più. Sentiamo. È stata chiusa definitivamente la sessione dei lavori in Consiglio regionale della Puglia senza che in aula sia stata affrontata alcuna discussione sulle mozioni e interrogazioni. Oltre 70 i punti. Dopo la sospensione di un'ora per il venir meno del numero legale, alle 14.30 c'è stata la ripresa, ma al momento di votare la richiesta del Consigliere di Azione Fabiano Amati di anticipare la discussione della mozione sull'autonomia differenziata, in aula erano presenti soltanto 22 consiglieri su 50. Non essendo stato raggiunto il numero legale, la Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, ha quindi chiuso i lavori di fatto mai iniziati. Prossima seduta convocata per il 14 febbraio. Il Presidente Emiliano non ha più una maggioranza a consigliare. Lo dicono in una nota congiunta i gruppi di opposizione, Fratelli d'Italia, Forza Italia Lega e la Puglia domani, dopo il rinvio della seduta per mancanza del numero legale in aula. In Consiglio regionale ormai esistono solo gruppi di potere e di interesse, scrivono i consiglieri, non certo a favore dei pugliesi che si agitano e si spostano da una parte all'altra per ottenere questa o quella poltrona o peggio altro. L'enessimo Consiglio regionale che si scioglie per mancanza del numero legale è una mancanza di rispetto non solo nei confronti dell'istituzione, ma anche dei pugliesi, in modo particolare di quegli elettori che hanno scelto di votare per loro e che oggi si ritrovano con il peggior governo regionale possibile. Rapina ieri pomeriggio ai danni della farmacia di via Federico Spera, la periferia di Foggia. Due malviventi di cui uno armato con pistola ed entrambi con il volto coperto hanno fatto irruzione nel locale sotto la minaccia delle armi. Si sono fatti consegnare da un dipendente il danaro in cassa che si aggirerebbe a qualche decina di euro. Del caso si occupano gli agenti della squadra mobile di Foggia che hanno già acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso dell'attività commerciale e delle zone limitrofe. Si è tenuto presso l'auditorium della biblioteca regionale La Magna Capitana il primo tavolo permanente della filiera culturale della città di Foggia, movimento con 90 firmatari all'attivo nato in piena pandemia a tutela dei lavoratori in arte e spettacolo. Fabrizio Sereno. Marco Maffei, primo firmatario, tra i primi firmatari della filiera della cultura della città di Foggia, oggi il primo tavolo della filiera permanente qui in biblioteca. Com'è andata? Credo che sia andata bene perché alla fine c'era un bel po' di gente, ho visto molti colleghi interessati, ho visto anche persone nuove che conoscevano le gesta della filiera che ormai ha compiuto due anni e passa e stiamo facendo delle battaglie che ci portano a ben sperare. Rispetto a due anni fa dove non potevi neanche aprire la bocca e parlare di qualcosa che non poteva essere accettato dai piani alti, oggi lo facciamo direttamente, ne parliamo e ci avanza anche il resto. Quindi va bene così, va benissimo. Direi che convergere su un obiettivo ideologico comune che non bada al bene personale ma al bene collettivo dal punto di vista culturale, questa città è devastata culturalmente sia nella solitudine degli operatori appesantita dai blocchi del Covid e sia da un punto di vista sociale, per cui noi abbiamo il dovere da operatori di rimettere in piedi quello che è necessario fare. Per Marco Maffè, per la filiera culturale, la politica è comunque un interlocutore per creare nuove politiche culturali o deve essere un mero esecutore magari di indicazioni che arrivano da tecnici come voi? Allora, la politica indipendentemente dal nostro ruolo deve essere competente. Quando dimostra di non essere competente, quando dimostra che non è in grado o non ha voglia di dialogare con noi, allora è meglio che si appoggi direttamente a chi è competente davvero. Siamo allo sport, torna al successo dopo una prolungata serie no nel girone rosso di A2 di basket la cestistica San Severo che domenica sera ha piegato non senza fatica per 67 a 61 al pala Falcone Borsellino il fanalino di coda Chieti. Vittoria salutare di fondamentale importanza per il quintetto di coach pilot che per quanto sempre in piena zona play out fa un sensibile passo in avanti e guarda con rinnovata fiducia al futuro. Domenica prossima altro snodo cruciale di stagione con il match casalingo contro la corazzata Pistoia. Gara chiusa nel pronostico in partenza anche se il successo ritrovato potrebbe sbloccare psicologicamente i neri. Bene, abbiamo davvero concluso, grazie per essere stati con noi, appuntamento domani sempre alle ore 20. Buona serata a tutti. Grazie 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 a tutti.